La trattativa da quando sono tornato con il ritiro con la prima squadra, poi è arrivato il mio libro del Toro il 20 agosto, quindi si è conclusa in maniera rapida. Mi è subito piaciuto quando sono arrivato qui, ho trovato subito una buona accoglienza da parte del mister e del direttore che devo ringraziare perché mi sono stati dietro e hanno avuto la costanza di seguirmi tutto questo tempo, siamo arrivati a Teramo e siamo felici entrambi. Se ho ben capito, difensore centrale o terzino destro, a chi ti ispiri e che aspettative hai per il campionato? Gli anni scorsi mi ispiravo ad Armian, anche per i suoi trascorsi al Toro, Granata, ho sempre fatto molto bene e anche come ragazzo fuori dal campo mi rivedo molto. Gli obiettivi? fare bene, fare bene fin da subito, mi sembra, ho conosciuto il gruppo, è un gruppo coeso come ho già detto in precedenza e quindi è un gruppo pronto a far bene, io sono a disposizione loro e del mister. Il rapporto con Mister Zieghella appunto quanto è infinito? Io lo conoscevo già nei giovanili del Toro perché io ero più piccolino, lo vedevo negli allievi e quindi sapevo già come lavorava e poi quando ho saputo del suo interesse di quello del Teramo in maniera particolare hanno spinto molto e quindi sono stato felice poi di accettare questa offerta e di raggiungerlo qui a Teramo.